calcio serie c mercato in primo piano obiettivo attaccante per il gubbio con chinellato e magnaghi in pole costantino non firma con il teramo e torna ad attualità di ramate date orari per le gare di gennaio e febbraio ternana paghera è già in gruppo promozione gironea domenica alle 14 30 big match branca tiferno al santa barbara l'avvicinamento della gara nelle parole del tecnico bianco blu caporali volle a due partocini conferma la vetta ora pensa la coppa italia buonasera ben ritrovati con l'informazione sportiva da trg il calcio in primo piano con il mercato sempre d'attuale per la serie c atteso stasera a gubbio il centrocampista classe 1990 davina arriva dalla ferralpi salò che da domani si unirà al gruppo rosso blu per l'attacco restano in auge le piste che portano a chi nel lato del padova e magnaghi del pordenone a cui bisogna aggiungere romero classe 92 autore di cinque reti a piacenza resta una speranza anche per costantino che non sembra più sicuro di accasarsi al teramo visto che la firma attesa in giornata non è arrivata ma sul giocatore ora c'è anche la triestina in uscita i nomi principali sono quelli di ricci e campagnacci restano invece sia de silvestro che battista definiti intanto dalla lega date e orari del prossimo mese e mezzo di campionato per quanto riguarda la compagine rosso blu il 19 gennaio la ripresa con la vispesaro si gioca alle 16 30 poi turno infrasettimanale di martedì a bergamo con l'albinoleff alle 18 e 30 seguito dal match casalingo con il teramo alle 14 e 30 il sabato successivo quindi febbraio inizia con il quasi derby di fano in notturna alle 20 e 30 quindi gara casalinga con limolese alle 14 e 30 turno infrasettimanale a fermo alle 18 e 30 sabato 16 febbraio altra trasferta questa volta a bolzano alle 14 e 30 con febbraio che si chiude con la gara casalinga al cospetto della feralpi salò sempre alle 14 e 30 e ha ripreso a correre anche la ternana in vista della ripresa del campionato di ciclo la prossima sfida a casa sfida casalinga con il fano fissata per sabato 19 alle 20 e 30 la novità è la presenza del centrocampista paghera che già si allena in gruppo e verrà tesserato nelle prossime ore classe 91 e reduce da sei stagioni filate in serie b con la maglia di lanciano avellino e provercelli per quanto riguarda la squadra ancora out defendi bergamelli vantaggiato mentre la notizia positiva è il ritorno in gruppo dopo lungo tempo di rivas scendiamo in promozione perché il branca si prepara per quella che sarà con ogni probabilità la classica partita che vale una stagione per la compagine bianco blu pronta a ricevere la capolista tiferno lerchi tutti i dettagli nelle parole del tecnico del branca caporali la madre di tutte le partite questa sarà con ogni probabilità branca tiferno lerchi per il girone a di promozione big match capirà con i lustrini il 2019 per la categoria se punti separano le due squadre quando siamo giunti alla seconda giornata di ritorno con i tifernati in vetta e brancaioli terzi a quattro lunghezze dalla trasimeno secondi in classifica e sei lacustri sono in lotta grazie soprattutto alla miglior difesa del girone branca e tiferno sono lassù grazie alla forza d'urto offensiva 39 gol segnati dagli agubini 40 dai biancorossi cifre che issano di rallunga le due compagini in testa per reti segnate nel girone per questo si prospettano 90 minuti vibranti equilibrati ed ad alto tasso spettacolare con la focetà brancaiola che per l'occasione ha indetto la giornata bianco blu sperando che il santa barbara possa essere il dodicesimo uomo in campo per noi sicuramente sarà la partita più importante della stagione viste le altre 16 che abbiamo fatto forse questa è quella che inizierà a dare delle delle sentenze comunque abbiamo la possibilità di tornare a a tiro delle prime due in classifica e daremo tutto per cercare di di recuperare quel gap che ormai c'è da praticamente dalla seconda giornata di campionato abbiamo fatto buonissimo girone di andata siamo rimasti sotto siamo rimasti lì adesso dobbiamo provare a recuperare ancora dei punticini per provare a rimanere lì con le prime due cioè con la tiferno e la tracimeno sarà una partita durissima per noi questo è chiaro loro hanno qualità e individualità però la squadra è cresciuta tanto credo che ce la giochiamo ce la giochiamo a darmi pare sarà penso una bellissima partita giocata a viso aperto da da tutte e due le squadre ecco e questo forse ci darà la possibilità di poter tornare in gioco di poter continuare a lottare per le prime posizioni della classifica se saremo in grado di farlo insomma in ogni caso il progetto branca calcio rinato quest'anno dopo la scissione dal fontanelle e la rinuncia a disputare quell'eccellenza che era stata guadagnata sul campo con la salvezza diretta prosegue con programmazione ed unità di intenti sempre nel segno dei giovani e della volontà di raggiungere il risultato attraverso il gioco a noi andiamo avanti con quella che è la mia mentalità e questi ragazzi lo sanno dall'inizio della stagione noi abbiamo un'età media di 21 anni e sapevamo di poter trovare le difficoltà abbiamo puntato su questo abbiamo puntato sul fatto che dovevamo per forza e ad ogni costo giocare la palla giocarla in avanti il più possibile perché è questa la mia mentalità e è questa la mia idea di calcio però la squadra vive praticamente per fare gol per giocare in avanti e fare gol e questo sarà sarà il nostro tema da qui alla fine del campionato perciò giocheremo con sfrontatezza come sempre abbiamo giocato e proveremo a fare risultato attraverso il gioco un gioco offensivo perché ci sappiamo difendere abbastanza bene ma sappiamo attaccare meglio perciò questa è la nostra forza la dobbiamo portare avanti e spostiamo ora al volley spostiamoci al volley perché approfondiamo il magic moment della bartocini perugia che conferme primatina 2 dopo la vittoria sul parche di sassuolo si prepara ora la coppa italia vediamo non si ferma l'impeto di bartocini gioielleria perugia che nella settima giornata del girone di ritorno di a due femminile supera 3 a 1 a domicilio canovi coperture sassuolo confermando il primo posto solitare in classifica tre punti sopra trentino coach bovari nello starting six conferma de michelis in diagonale cosmirnova pascucci e petrelli in posto 4 al centro kotlar e lapi con bruno in ricezione nel primo set la bartocini inizia a rilento e va sotto 14 10 ma poi il sestetto perugino inizia a carburare nelle due fasi ed impatta sul pari 16 prima di portarsi sul 19 21 grazie alla forza muro fondamentale che indirizza il set verso il 22 25 finale inizio di secondo set equilibrato poi bartocini prende in largo scappando sul 12 18 mantenendo il vantaggio sino alla fine e chiudendo 21 25 per lo 02 nel terzo set approccio super delle perugine che scappano sul più 6 ma sassuolo ha un'impennata d'orgoglio impatta sul pari 20 e poi effetto il sorpasso del 25 23 che accorcia le distanze la rimonta però non avviene perché perugia è estremamente concentrata nel quarto parziale un deciso break segna il più 8 sul 12 20 che porta il match sino al 17 25 e 1 3 che regala ulteriori tre punti in graduatoria alla bartocini ed ora perugia è pronta ad affrontare per la prima volta nella sua storia l'avventura della coppa italia di categoria domenica alle ore 17 arriveranno di fatti al palabarton le friulane dell'itas cittafiera martignacco pronte a contendere alle perugine in gara secca l'accesso alle semifinali un match che si prospetta ad alto voltaggio e dove atteso il pubblico delle grandi occasioni nel palazzetto di pian di massiano per spingere la bartocini verso la final four di verona il campionato tornerà invece domenica 20 gennaio con l'ultima gara di regular season che vedrà di fronte proprio perugia trentino per un duello destinato ad essere decisivo in ottica primato restiamo al volley ma andiamo in cima schile torna in campo stasera al città di castello pallavolo atteso al palajon nella sfida al vertice contro la polisportiva terni che occupa il terzo posto in classifica due lunghezze dai biancorossi di marco bartolini capolista dopo dieci giornate all'andata marini e compagni si imposero per 3 a 1 al termine comunque di una gara molto combattuta e lo stesso refren atteso per stasera con il sestetto tifernate che proverà a ripartire al massimo in questo 2019 scherma il ternano alessio foconi torna a parigi un mese dopo le celebrazioni per il 105esimo anniversario della federazione internazionale quando era stato premiato come vincitore del ranking mondiale di fioretto maschile sempre nella capitale francese un anno fa il campione del circolo schermaterni aveva aperto il suo anno d'oro dominando la prima prova di coppa del mondo saranno 12 gli azzurri impegnati nel weekend a parigi per la seconda tappa stagionale della rassegna iridata di fioretto maschile foconi già certo di un posto nei primi 64 assieme ad avola garozzo e cassara per il quartetto azzurro che disputerà la prova squadre di domenica mentre per tutti gli altri la gara scatta nella giornata di venerdì con la qualificazione a girone gli eventuali assalti a eliminazione diretta chiudiamo stasera ricordandovi alle 23 l'appuntamento consueto con sport e incontri con un focus sul mondo calcistico dilettantistico regionale è tutto per le informazioni sportive che ritroverete in replica alla mezzanotte 30 di stasera e domani sul sito trgmedia.it grazie per l'ascolto e buon proseguimento grazie a tutti Grazie per la visione!